Siamo con Gentili, mister del San Michele categoria 2003, insomma anche questa mattina la tua squadra è impegnata sul campo del Don Luca, un torneo che è già iniziato da due mesi ma vi sta divertendo molto. Sì, è un torneo molto prestigioso, devo dire che anche negli anni scorsi abbiamo giocato su questo campo molto ambizioso, è un torneo che tutte le squadre vorrebbero partecipare, però non è un numero chiuso, però è molto restrittivo perché le squadre qui a Latina sono tante e molte delle quali sono molto all'avanguardia, sono fortissime, sono delle squadre fortissime. Infatti stamattina giochiamo con il Sermonera, sono due belle squadre, sia noi che quelli del Sermonera.